L'economia dei trasporti. Poi, vi avevo promesso ieri, alle 18 c'è arrivato qualche sms quando abbiamo ospitato il presidente di Fipe, Lino Stoppani, dicendo siete vergognosi, date solo spazio alla parte datoriale. No, oggi in apertura daremo spazio alla parte sindacale, o meglio a due parti sindacali. Quindi, quella della Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha deciso di dare una disdetta al contratto, come ieri vi abbiamo raccontato provocando la protesta dei lavoratori del settore che oggi hanno scioperato, così come hanno scioperato i bancari per un evento analogo, l'ABI, che anche in questo caso ha disdetto il contratto. Parleremo con entrambi i sindacati, quello principale, quello più rappresentativo dei bancari e poi quello della CGL per quanto riguarda la Fipe, per quanto riguarda i pubblici esercizi. Ci occuperemo di Stati Uniti.